Noi andiamo veramente al massimo, mettiamo una cuffia perché ci siamo, siamo in diretta ancora su Radio R9 per il nostro pungiglione alle 11.41 quando Stefano si sta preparando in qualche modo per prendere appunti, cosa stai facendo? Metto in ordine, lascio la pagina bianca La pagina bianca, se vuoi ti do una cambiale così me la firti Ma non vale niente, la mia firma quindi Buongiorno anche a Roberta, non solo Stefano, buongiorno Buongiorno, i nostri amici di MyDog, ne abbiamo parlato anche prima in apertura del nostro pungiglione di questa mattina in realtà con voi abbiamo un caso aperto, siete stati ospiti nostri qualche tempo fa abbiamo parlato di tante cose, dei comportamenti dei nostri amici a quattro zampe del vostro lavoro sempre a disposizione, dei tanti amici che hanno questo piccolo esserino magari dentro casa e tutto sommato hanno bisogno di trattarlo e quindi trattarlo con le dovute cautele e quindi le giuste istruzioni che soltanto professionisti come voi sapete dare La giornata in cui ci siamo visti e in qualche modo ci siamo raccontati qui al Pungiglione Zona delle Nove ovviamente prevedeva tantissimi argomenti che abbiamo lasciato in piedi come per esempio la festa del 19 aprile Cosa succederà il 19 aprile? Dove? Come? Quando? Il 19 aprile è sabato prossimo quindi il sabato prima di Pasqua a Pagliare del Tronto una località vicino al comune di Spinetoli in Vallata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno c'è la festa del cane, la prima edizione della festa del cane aperta a tutti i cani di tutte le età, di tutte le razze e il secondo raduno interregionale, Marco Abruzzo, Jack Russell Ah ecco, quindi non solo la festa però poi dopo c'è anche il raduno Jack Russell Esatto, dall'interno quindi saremo invasi Dalle 8 del mattino fino a che resistono proprietari e cani Iniziamo con il saluto delle autorità, la benedizione pascuale dei cani e poi con le dimostrazioni di Disc Dog, le sfilate, la dimostrazione di Shand Game e le sfilate e poi concludiamo con le premiazioni assegniamo un premio che ha un'importanza molto importante per noi perché viene premiata una struttura di ricovero per i cani una struttura completamente privata e quindi assegneremo questo premio particolare che è la prima edizione, un premio di solidarietà Questo mi fa molto piacere, dobbiamo essere solidari in qualche modo anche in determinati periodi Tra l'altro, scusami se interrompo, chi verrà alla festa, chi vorrà portare tutto quello che ha di inutilizzato del proprio cane quindi cucce, coperte, pettorine, guinzalli che non usano più perché magari sono passate di moda magari il cane non lo mette più il cappottino perché non è più di moda Vedi io potrei farlo perché il mio cane è cresciuto rispetto alla pettorina di un anno fa Quindi magari ce li portate, noi li raccogliamo e per il canile di Montegranaro e per il canile privato della signora Maria di Colli del Tronto divideremo tutto quello che porteranno i partecipanti Mi fa molto piacere, davvero Allora, fra poco continueremo a ricordare questa grande giornata La domanda nasce spontanea Per la benedizione del proprio piccolino a quattro zampi bisogna per forza venire alle 8 del mattino? Il bello è proprio lì perché se si viene alla fine non ha più effetto Cioè scusate ma pure di sabato mattino Alle 8 del mattino usiamo l'acqua santa Quando venite e berrete alle 4 veniremo con vino, birra e alcol Tra poco racconteremo ancora Allora cari amici invece in questo momento siamo con Stefano e Roberta per quanto riguarda My Dog, la scuola di educazione cinofila L'associazione sportiva dilettantistica Insomma che si mette a disposizione dei tanti che hanno voglia di dare una giusta educazione agli amici a quattro zampi e quindi educare anche i proprietari avere a che fare con i cuccioli e con i cani Loro sono educatori cinofili accreditati per l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili l'Istituto Nazionale per lo Studio Comportamentale dell'Animale la Federazione Italiana Sport Cincofili Cinofili sarà un errore del tipo Beve troppa grappa Comunque è Fisk Libertas, è un ramo del coni Il centro cinofilo è accreditato Fisk che è la Federazione Italiana Cinofila Sport e Soccorso Insomma i cani hanno anche questo ruolo importante del soccorso ce ne sono davvero tanti addestrati per questo e a volte ci danno grande dimostrazione di amore verso le persone assolutamente incondizionato e costante verso i proprietari è bellissimo quasi invidiabile nel senso ci sono dei cani che danno un amore talmente importante talmente alto che tante volte noi ci rendiamo conto di non essere all'altezza ed è una cosa bellissima come quelle storie di quei cani che dopo che è morto il padrone si sono lasciati andare e sono rimasti vicino alla tomba hai fatto racconto in una bellissima storia che poi accade spesso si se ne sente parlare spesso e è il risultato di una ottima relazione costruita tra il proprietario e il cane magari anche senza andare a scuola il buonsenso a volte viene dimenticato il buonsenso non vuol dire completamente morbidezza in assoluto servono con il cane come servono nella vita di tutti i giorni delle regole da rispettare possono essere delle regole personali che riguardano la propria persona ma delle regole di comportamento con quel cane per il quale non si può prescindere dalla razza dalla provenienza da tanti fattori che sono per i quali noi possiamo assolutamente aiutare i proprietari a conoscere meglio il proprio cane che sa comunicare con il proprio proprietario nel modo canino quindi in modalità canina per cui il nostro ruolo ha un'importanza assolutamente sociale non siamo solo degli operatori di divertimento o nei campi scuola quello che è il nostro ruolo è anche quello aiutare la signora di una certa età a capire cosa vuole dirli effettivamente il cane con un abbaio piuttosto che con una postura piuttosto che con uno giolato o un movimento delle orecchie questo tipo di comunicazione che è una cosa che noi impariamo nei nostri corsi di formazione negli stage continui che facciamo per aggiornarci servono per i proprietari comuni quelli che hanno il chihuahua il meticetto perché hai detto chihuahua subito? perché mi sei di fronte e tu hai Diego questo meticetto di otto mesi di cui ce ne parli spesso e siamo felici di sentire questi racconti perché vuol dire che ne sei assolutamente innamorata questo è bellissimo per un proprietario naturalmente quello che cerchiamo di insegnare è di non creare una simbiosi a tutti gli effetti con il cane perché produce da una parte degli effetti dall'altra alcuni anni beh sì allora l'amore può essere incondizionato però resta sempre un cane e tu resti sempre una persona allora mi parlavate a microfoni spenti poi magari approfondiremo altri discorsi perché ci sono dei messaggi rimasti così in piedi anche dalla scorsa volta parlavamo del fatto che è importante il cane non salga sul letto perché molti lo fanno molti dormono col cane il cane è abituato a dormire ai piedi del letto il cane sale insomma è una cosa buona o no far salire il cane sul letto? la puoi rispondere a voi Roberta allora spieghiamo che il fatto di farli scendere dal letto dal divano è importante per il segnale che si dà al cane allora in natura normalmente le priorità le gestisce il capobranco il genitore e le priorità quale sono? il posto dove si dorme il cibo le interazioni per questo non farlo dormire con noi sul letto o farlo stare sul divano come messaggio è sbagliato perché è un condividere che in natura non esiste una scala gerarchica è serenità e tranquillità perché ognuno ha il suo posto e così funziona in natura se noi invece gli diamo questo messaggio è come dirgli sei tu il capo di casa perciò se poi ha dei comportamenti scorretti per noi come quello di marcare in casa marcare cari amici significa fare il pipì ovunque esatto poi noi pensiamo che lui ci faccia un dispetto invece è la manifestazione di un disagio come farci capire che lui non credisce che noi lo lasciamo da solo perché se gli abbiamo fatto credere che lui è il capo di casa allora non vogliamo che tu te ne vai anche molto spesso noi tieni presente che noi quando riceviamo un cliente al campo siamo abituati a fare un'intervista piuttosto lunga al proprietario e al cane perché poi non tutti sono disposti a sacrificare del tempo per un percorso educativo che poi serve per tutta la vita purtroppo all'inizio noi questa intervista che comunque è prodotta da alcuni specialisti non è prodotta dal primo che è passato metteteci questa domanda sono tutte domande che in un questionario che facciamo ai proprietari ci servono per capire certi determinati comportamenti di un tipo o dell'altro come il rientrare e l'uscire di casa che sono due atteggiamenti che spesso i proprietari sbagliano perché non fanno mai riferimento alla natura il cane vuole essere trattato da cane cioè fammi capire io esco di casa io di solito dico adesso torno ho sbagliato? non è correttissimo non è che sia sbagliato non è correttissimo nel senso che in natura succede questo se noi ci immaginiamo che il cane vive con noi in questo gruppo misto nuovo che è la famiglia comunque esseri umani esatto per lui comunque siamo tutti di una stessa entità sociale in un stesso gruppo sociale quando il capobranco o leader di questo di questo gruppo misto esce in natura uscirebbe per riprodursi per fare caccia dovrei tornare con questi bambini no però per il cane quando si esce da la tana che è la casa per lui è tana la cuccia che succede in natura il capobranco non è che dice ragazzi io esco state tranquilli e poi torno ah quindi non devo dire nulla assolutamente niente ah ho sbagliato ma soprattutto è molto più importante il rientro dove normalmente se uno guardasse osservasse come hanno fatto tanti etologi nel tempo perché questo non è che Stefano di My Dog Roberto di My Dog che lo stanno dicendo su Radio R9 sono studi che noi abbiamo fatto su studi fatti da tanti specialisti che per anni sono stati a osservare questo comportamento e quando il capobranco torna all'interno del gruppo ci si buttano tutti addosso come fossero i pulcini ma lui mette in atto dei comportamenti delle posture dei messaggi dei segnali calmanti o dei messaggi vocali che da leader comunicano certe cose non interagisce per niente con i propri componenti del brano dopo qualche minuto dopo qualche ora se ha voglia lui inizia il gioco nella sua classica postura quindi col sedere dritto gli abbaietti lo scodinzolo e il cercare la tua attenzione la stessa cosa dovrebbe fare il proprietario perché se io scodinzolare altrimenti quando rientri che cosa puoi fare? prima di salutare Diego aspetti che sia tranquillo e poi gli chiederai di venire da te lo coccolerai ma lui mi salta adesso perché vuole non sono coccole tradotto è dove cavolo sei stata? oh mamma mia devo dar conto anche a lui no se tu entri e interagisci subito con lui dai conto a lui è come se gli avessi detto Diego guarda che io sono scusa scusa tu sei il capo anche perché la coccola è comunque un premio per il cane perciò rinforzare perciò rinforzare l'atteggiamento di ansia è come dirlo bravo che fai in questo modo invece evitare di coccolarlo finché lui è in un stato di ansia e poi quando è tranquillo quando sta sereno coccolarlo è la maniera giusta e niente allora ho sbagliato tutto fino a ora ma no questo è noi siamo qui a posto sei ancora in tempo sono ancora in tempo sei ancora in tempo per Diego come che torna a casa non ti guardo neanche basta farlo nel momento giusto allora siamo in chiusura ricordiamo il 19 aprile a partire dalle 8 della mattina fino a tardo pomeriggio tutti insieme a Pagliare a Pagliare del Tronto all'Oasilavalle a Fattoria Sociale Oasilavalle la Festa del Cane secondo la Duna Interregione portate i vostri cani i vostri cuccioli i vostri grandi amici esatto e non ve ne pentirete saremo tutti insieme portate il libretto sanitario perché c'è il veterinario che controlla per ovvie ragioni di correttezza nei confronti di tutti gli altri proprietari lo stato di salute dei cani io lo pezzo possono partecipare tutti possono partecipare tutti secondo me dovremmo toglierlo questo cane a questa no adesso mi vorrei non lo ricomincio da diventare no il libretto non trovo più libretto va bene grazie a Stefano Roberta salutiamo anche Antonio che questa mattina non è stato con noi ah quando un cucciolo non è più definibile cucciolo questo era un messaggio della nostra amica tecnicamente quando supera al sesto mese un cane normalmente da cucciolo diventa cucciolone ai 12 mesi diventa tutto però dobbiamo fare il ragionamento di che razza è quindi non è riferibile a tutte le razze se è maschio se è femmina cambiano le cose un maschio normalmente matura socialmente e sessualmente quando alza la zampa per fare la pipì la prima volta ma i cagnetti piccoli di taglia piccola metici o di razza normalmente per istinto di sopravvivenza la natura che gli dice sbrigati a crescere perché se no te si mangiano ma tu danno più in fretta e ricordatevi sempre che questo esisterà sempre nella testa del cane l'istinto di sopravvivenza e molti proprietari quando umanizzano il cane fanno questo grande errore di dimenticarsi non va bene non umanizzate il vostro cane perché il cane deve essere tale grazie davvero ragazzi io spero che mi veniate a trovare molto presto viva Diego evviva Diego il mio piccolo grazie Roberta grazie Stefano ci si vede sabato in giornata e viva my dog